Incredibile pareggio per 3 a 3 Traffer al Pisalò e Bari al Garilli di Piacenza. Padroni di casa in totale emergenza, ben otto i calciatori indisponibili. Il tecnico è dunque costretto ad aggregare al gruppo qualche elemento della primavera o, comunque, giocatori sin qui poco impiegati. Ampia scelta invece per Marino che, fatta eccezione per Frabotta, Maiello e Manese, può contare su tutta la rosa. Puccino parte nei tre centrali, sarà 3-4-3 con Sibilli che potrebbe però agire anche in veste di trequartista. Primo tempo con il Bari meritatamente in vantaggio per 1-0. Risultato sbloccato con un ottimo colpo di testa di Nasti. Dopo pochi minuti i pugliesi sfiorano il raddoppio, ma Dio si fa parare un calcio di rigore. Successivamente gli ospiti creano qualche pericolo, soprattutto da sinistra con Ricci, ma senza creare grandi presupposti per raddoppiare. A inizio ripresa un gran sinistro dal limite di Sibilli sembra aver chiuso la gara a favore del Bari, ma gli ospiti rientrano in partita subito dopo grazie ad una fortuita autorete di Di Cesare e la partita cambia. I padroni di casa riescono prima a pareggiarla e poi addirittura a portarsi in vantaggio con i gol di Zennaro e So. Il neo entrato a Kik realizza a 10 minuti dalla fine il gol del definitivo 3-3. Il finale è invece caratterizzato da qualche tentativo in attacco da parte di entrambe le squadre.